Buon pomeriggio, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Televomero. Sicurezza Napoli, ministro dell'interno Matteo Piantedosi, per la sicurezza nelle grandi città c'è bisogno di avere i luoghi protetti dalla polizia dove c'è più bisogno, ma a giudizio del responsabile del Biminale non bisogna trascurare gli aspetti di carattere culturale e sociale, bisogna fare sinergia con i livelli territoriali, con i sindaci. Basta aggressioni, vogliamo essere rispettati. Il grido di denuncia del grande disagio dei medici, degli infermieri e degli operatori sanitari che questa mattina hanno urlato forte nei diversi presidi ospedalieri di Napoli e delle province, attraverso i flash mob organizzati dalla UIL e dalla UIL di settore Napoli e Campania. Non è possibile più tollerare aggressioni, violenze né confronti del personale sanitario, colpire il personale sanitario e colpire se stessi, dice la segretaria generale della UIL Sgambati. E' assolutamente inaccettabile quello che sta accadendo, per quello la UIL in tutta la campagna ha organizzato questo flash mob. Le prime risposte del prefetto vanno bene, ma è necessario per noi intensificare la presenza della forza di polizia, far sì che ci siano un inasprimendo delle pene perché non si può passare in questo modo come una semplice rissa e l'altra bisognerà forzare gli organici. Senza gli organici io penso che i cittadini avranno minori servizi e si creano troppe tensioni. Incidenti stradali Napoli maglia nera con 23 morti e 3.051 feriti. Il 72enne falciato e ucciso sulle strisce pedonali al corso Umberto è solo l'ultima vittima della strada che nell'ultimo anno è stata registrata in città. Tra il 2022 e il 2023, secondo i dati ACI-STAT, Napoli ha fatto registrare un incremento del 30% dei sinistri stradali, con nel solo 2022 2.337 incidenti, 23 morti, 3.051 feriti. Ma il trend negativo alla guida si registra in tutta la regione. Lo scorso anno in Campania sono stati registrati 9.821 sinistri, di cui 228 persone hanno perso la vita e oltre 14.000 hanno riportato lesioni più o meno gravi. Il fenomeno risulta in aumento relativamente agli incidenti, il 9%, e alle loro conseguenze, il 6,5% dei decessi e il 9,1% dei feriti. Per quanto riguarda la cosiddetta mobilità dolce, 70 sono stati i velocipedi coinvolti lo scorso anno in incidenti stradali, con 66 feriti, 4 le biciclette elettriche con 4 feriti e 4 i monopattini elettrici, sempre con 4 feriti. Alla guida distratta, spesso dovuta all'usilizzo del cellulare durante la marcia, è imputabile invece il 25% degli incidenti stradali, mentre il 42% di quelli mortali è dovuto all'alta velocità, all'alcol e alla droga. La domenica, con sei morti, è il giorno più nefasto della settimana, mentre la fascia oraria maggiormente pericolosa è quella mattutina, compresa tra le 10 e le 13, con 8 decessi. Il comune, nell'ultimo anno, è corso ai ripari, installando in strade a veloce percorrenza dei dossi e rifacendo la segnaletica orizzontale. All'assessore De Jesu abbiamo chiesto se a breve anche il corso Umberto sarà dotato di attraversamenti rialzati. Ecco cosa ci ha risposto. Questo è un tema prioritario in questo momento, alla luce di quello che è successo, una cosa grave. Il corso Umberto, che è una strada a scorrimento veloce di 1,6 km, ha bisogno di migliorare sia la segnaletica orizzontale, faremo delle valutazioni anche per togliere i New Jersey e valutare eventualmente i dossi in punti strategici di quella strada. SOS dell'Asla, Napoli 1 Centro. Non correre in pronto soccorso, ma usare tutti i servizi e le strutture che il Servizio Sanitato Pubblico mette a disposizione dei cittadini. E' la PEDLO che arriva dalla direzione strategica dell'Asla Napoli 1 Centro, impegnata da settimane nella gestione dell'emergenza, causata dall'enorme aumento di casi di influenza e da una recrudescenza di casi di Covid. Un impegno che ha richiesto da parte del direttore generale Ciro Verdoliva l'attivazione dell'unità di crisi e diverse misure straordinarie. Il Servizio Sanitario Regionale, ricorda Verdoliva, prevede molteplici possibilità assistenziali per i cittadini che necessitano di cure sia in regime di urgenza che di elezione. Un ruolo cruciale in quest'ottica è svolto dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, che sono il primo punto di approccio alle cure. Rubato dall'archivio di Stato, ritorna a casa il diario di bordo dei Borbone. Un manifesto del 1811 di Gioacchino Napoleone sovranno delle due Sicilie, la lettera manoscritta di Maria Amalia di Borbone indirizzata a Ferdinando II ed un giornale del soggiorno madrileno del 1829 dei Reali di Napoli sono solo tre dei 300 documenti storici restituiti all'archivio di Stato di Napoli. Si tratta di materiale databile tra il XVI e il XIX secolo e riconducibile quindi al periodo borbonico-napoletano. A rendere possibile il recupero, le serrate indagini coordinate dalle procure di Parma, Napoli Nord, Salerno e Santa Maria Capuavetere, che attraverso il monitoraggio delle piattaforme di e-commerce per la vendita di materiale storico hanno individuato e sequestrato i reperti. A rimettere al loro posto gli iscritti, la direttrice dell'archivio di Stato, la dottoressa Candida Carrino. Noi abbiamo uno dei fondi più importanti che è quello dell'archivio Borbone. Questi sono quasi tutti i documenti che sono stati negli anni sottratti all'archivio Borbone. Quindi non stiamo parlando di furti recenti, ma soprattutto la novità grossa degli ultimi anni è questa sinergia fortissima con la soprintendenza archivistica e bibliografica della Campania, con l'archivio di Stato e col nucleo tutela dei Carabinieri. Ad effettuare la consegna, il comandante del nucleo per la tutela del patrimonio culturale, il capitano Massimiliano Croce, che ha spiegato. Sono stati recuperati attraverso il nostro monitoraggio che facciamo sul web. Quindi sono i siti e-commerce molto conosciuti su cui vengono piazzati questi beni liberali e archivistici. Beni che comunque hanno natura assolutamente demaniale, anzi in questo caso sono tutti riconducibili all'archivio di Stato di Napoli e molti di questi al fondo borbonico. Presente anche il dottor Gabriele Capone, sovrintendente all'archivio storico per la Campania. Il lavoro che si fa congiuntamente con il nucleo tutela dei Carabinieri è un lavoro quotidiano che ogni giorno consente di recuperare da un mercato parallelo e illegale documenti, libri, pergamene che sono stati sottratti illecitamente da questi luoghi di conservazione e che con un lavoro certosino vengono recuperati. Un 41enne della provincia di Caserta, ma domiciliato a Venezia, è finito in carcere per scontare una pena di due anni e sei mesi per violenza privata e minaccia nei confronti dell'ex moglie commessi nel 2021. All'indagato è stato infatti notificato un ordine di carcerazione. Il 41enne è stato portato dai Carabinieri nel carcere di Pordenone. Picnic di protesta nella Tribunale di Napoli. I lavoratori dicono il diritto alla mensa è un dovere sociale. Questa è la situazione dei dipendenti del Tribunale di Napoli, 11 gennaio 2024. Un picnic in piena regola, solo che al posto di un bel prato si sono seduti sul freddo pavimento della piazza coperta del nuovo palazzo di giustizia di Napoli, a pochi metri dalle aule giudiziarie. Protestano per vedere rispettato il diritto a una pausa pranzo dignitosa ai mille lavoratori del Tribunale di Napoli. Da una settimana hanno deciso di informare l'opinione pubblica circa il disagio in cui sono costrette a lavorare quotidianamente. Hanno proclamato lo stato di agitazione minacciando lo sciopero. Hanno incontrato il prefetto che si è offerto di mediare con il governo per risolvere un muro contro muro di due anni con i vertici del palazzo e ora per protesta, non avendola ottenuta, la mensa, se la sono creata da soli. Facendo emergere la loro vertenza, le rappresentanze sindacali unitari e dei lavoratori hanno portato all'attenzione anche un altro aspetto da non sottovalutare. La tipologia di struttura, composta da tre torri da più di 20 piani, versa in condizioni fatiscenti. Arrivano dal centro direzionale immagini di piramidi di faldoni nei corridoi, ascensori sempreguasti, bagni inagibili, pesanti infiltrazioni d'acqua tra i blocchi di cemento armato e incuria generale che non fanno presagire nulla di buono per il cuore della giustizia napoletana. Uno sciopero dei lavoratori significherebbe la paralisi di tutto ciò che è cartaceo nell'amministrazione del Tribunale. Prima di decidere per il picnic di protesta, le RSU avevano anche incontrato il prefetto che si è impegnato ad avvertire della questione i ministeri competenti. Inquinamento ambientale e scarico abusivo di refoli industriali, sequestrata un'azienda a Pompei e quello effettuato dai carabinieri del Comando Gruppo per la tutela ambientale di Napoli, che hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata. Su richiesta della Procura Oplontina, le indagini condotte dai carabinieri con la collaborazione tecnica dell'ARPAC hanno permesso di accertare che le attività dell'azienda operante nel settore della produzione, lavorazione e successiva verniciatura delle plastiche si sarebbe svolta in violazione della normativa ambientale in materia di scarico dei reflui nei corsi d'acqua e di gestione dei rifiuti. Castelvolturno, 13 arresti, sgominata la banda di extra comunitari. Continua senza soste il contrasto al traffico e alla vendita di stupefacenti. Stamane alle prime ore dell'alba, operazione nelle province di Caserta, Salerno e Teramo dei carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capoavetere, coadiuvati dai reparti territorialmente competenti e dai corpi speciali dell'arma. I militari hanno dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa di misure cautelari emesse dal GIP del Tribunale di Santa Maria su richiesta della Procura della Repubblica nei confronti di 13 persone, 12 custodie cautelari in carcere e una ai domiciliari, tutti ritenuti responsabili di spaccio di sostanze stupefacenti. L'azione di questa mattina arriva dopo un'articolata attività investigativa diretta dalla Procura sammaritana e condotta dalla stazione dei carabinieri di Grazzanise tra i mesi di novembre 2020 e di novembre 2021, anche attraverso attività tecniche che hanno consentito di accertare le responsabilità a vario titolo dei fermati che vanno dallo spaccio di sostanza stupefacente, quasi 400 episodi di cessioni di droga, prevalentemente eroina e cocaina. In particolare è stata riscontrata la cessione nel territorio del comune di Castelvolturno di stupefacenti da parte di soggetti africani, nei confronti di acquirenti tossicodipendenti o di soggetti che acquistavano lo stupefacente per poi rivenderlo nelle province di Salerno, Teramo e Perugia. A parlarci dell'operazione il colonnello Manuel Scarso dell'Arma dei Carabinieri e il procuratore, il sostituto procuratore Pierpaolo Bruni e Carmine Renzulli. La cellula più importante delle persone arrestate in questa operazione è fatta da extracomunitari che avevano costituito in Castelvolturno una piazza di spaccio che forniva, oltre allo stupefacente, anche la possibilità di consumare in loco lo stupefacente. Sicuramente Castelvolturno è una piazza di spaccio molto importante, molto rilevante e merita tutte le attenzioni che questo ufficio le dedica. Da decenni frangeli della popolazione che vengono da paesi dell'Africa, Nord Africa o Centro Africa sono dedicate allo spazio. È una rotta continua che fanno le forze di polizia che spesso riescono a conseguire, come in questo caso, risultati positivi. Siamo in collegamento con Vincenzo Schiavo, vicepresidente nazionale di Confesercenti e presidente di Confesercenti Campania in Molise. Ben trovato, grazie per essere collegato nuovamente con noi. Grazie a lei per l'invito, sempre un grande piacere. Allora, dal 5 gennaio sono partiti i saldi e una boccata di ossigeno? Sì, sono un'opportunità per i nostri commercianti del nostro territorio, per i tanti commercianti del mondo della moda che hanno bisogno assolutamente di poter introvitare un po' di denaro, visto quelle che sono state le temperature fino a qualche giorno fa, che erano ancora temperature estive, quindi non si vedeva ancora il freddo. Adesso hanno bisogno di poter vendere tutte quelle che sono la merce che da settembre è ferma nei negozi, con la speranza che adesso i consumatori, come hanno dimostrato alle interviste fatte dalla nostra struttura di Confesercenti, 4 su 10 hanno la volontà e la disponibilità di spendere circa 200 euro a persona, altri 6 attenderanno di poter capire i saldi quando saranno convenienti e se se lo possono permettere. Noi abbiamo avuto un periodo natalizio con tantissimi turisti e ancora tanti turisti visitano la nostra città. Questi turisti acquistano? Sì, fortunatamente dei turisti che teniamo nella nostra città in questo periodo di saldi dovrebbero contribuire con quasi 60 milioni di fatturato perché acquisteranno prodotti della moda o oggettistica. Quindi paradossalmente ai 500 milioni che il nostro centro studio ha valutato per le 4 persone su 10 che vorranno spendere 200 euro pro capite si aggiungono questi 60 milioni del mondo del turismo che fortunatamente oltre a riempire le strutture di extraalberghiere, alberghiere, ristoranti e quant'altro del mondo del turismo fortunatamente porta anche un po' di ossigeno alle attività commerciali del mondo del turismo, del mondo della moda. Quanto i commercianti sono penalizzati dalle vendite online? È vero che adesso ognuno cerca anche la vendita online sebbene abbia un esercizio commerciale aperto però forse una regolamentazione occorrerebbe per evitare poi quella che viene a crearsi, una concorrenza sleale? Dottoressa ci siamo candidati con il governo nazionale nel proprio, come dire, lavorare su questo oggi abbiamo grandi piattaforme internazionali che vendono prodotti che arrivano dalla Cina, dall'India quindi a prezzo basso o molto spesso vendono prodotti di grandi firme sull'online e queste grandi piattaforme non vendono con le regole italiane quindi chi fa commercio in Italia paga il 60% di tasse sugli utili questi signori hanno aperto le loro piattaforme in Inghilterra o in Olanda pagando il 5-12% massimo di tasse quindi fanno una concorrenza sleale perché molto spesso i consumatori si approcciano a queste piattaforme e vedono dei prezzi molto più convenienti i prezzi più convenienti è perché questi signori non rispettano le regole italiane ma pagano le loro tasse in altri paesi facendo concorrenza sleale agli imprenditori che abbiamo sotto casa che sono degli eroi che resistono sul nostro territorio che tengono accese le luci nelle nostre città e che molto spesso sono delle sentinelle del nostro territorio perché sanno cosa succede, conoscono le persone e quindi danno anche una percezione di sicurezza oltre a quella bellezza che incontriamo per le vie dello shopping che ormai il mondo conosce della nostra città Napoli è una città sufficientemente sicura sia dal punto di vista della sicurezza personale sia dal punto di vista della sicurezza stradale i dati dicono esattamente il contrario anche questo potrebbe in qualche modo alla lunga poi penalizzare il settore turistico? Sì dottoressa, bisogna continuare a lavorare perché Napoli continui ad essere una città sempre più sicura una città che abbia la capacità di poter controllare il decoro la pulizia della nostra città dobbiamo lavorare su questo e non dobbiamo mai abbassare la guardia infatti abbiamo chiesto al prefetto come chiediamo ai questori delle nostre città di continuare ad avere una guardia alta fare in modo che i turisti si possano sentire sicuri e protetti ma soprattutto fare in modo che i cittadini delle nostre città possano sentirsi sereni, protetti, garantiti perché solo se questo succede e continua a succedere il mondo del turismo può diventare un indotto fondamentale per l'economia del nostro territorio per la speranza di tanti ragazzi che possono trovare un'opportunità nelle attività commerciali e per le tante famiglie che ormai il mondo del turismo nella nostra regione dà lavoro quasi 800 mila famiglie quindi è fondamentale fondamentale che continui a crescere e che dia disposte agli imprenditori e ai lavoratori Le navi da crociera promettono più scali nel porto di Napoli anche questo può essere un volano per l'economia? Guardi, ovviamente un turismo di morde e fuggi perché arrivano mezza giornata sono costretti a vedere i musei a vedere la città ad andare a un pranzo veloce in un ristorante e scappano via se le dovessi dire potremmo farne almeno no dobbiamo avere tutti i turismi nella nostra città nella nostra regione dobbiamo continuare a investire nell'aeroporto di Napoli che continua a crescere del 20% di presenze ogni anno quest'anno ha portato un 13% in più l'anno prossimo si parla probabilmente ci sarà una crescita di quasi il 16% quindi siamo contenti di questo che le stazioni, la stazione di autotrasporto ferroviario continua a crescere anche lì sono milioni di persone, turisti e italiani che arrivano presso la nostra stazione se anche il porto fa la sua parte e continua a far crescere il turismo è una buona cosa per la nostra città e per la nostra regione ogni nave che arriva nel nostro porto oltre a scaricare migliaia di turisti che per una giornata stanno in giro nella nostra città e comprano un pasto, una bottiglina d'acqua un caffè o qualsiasi altro gadget portano via e comunque lasciano sul nostro territorio delle risorse economiche comunque le navi pagano le tasse per entrare nel nostro porto al comune e al porto quindi sono vantaggi che dobbiamo saper gestire quindi è un'opportunità ma bisogna saperla gestire Allora Presidente noi la salutiamo la ringraziamo le auguriamo buon lavoro e buon anno naturalmente arrivederci Grazie a lei ovviamente a tutti quanti nella sua emittente e soprattutto ai tanti telespettatori che la seguono grazie mille Arrivederci Palestina orrà Napoli la mostra di fumetti con Altan è zero calcare Dopo le proteste le occupazioni di scuole e università i presidi e le manifestazioni di solidarietà a favore della popolazione palestinese Napoli continua a essere una delle città più attive sul fronte delle iniziative per tenere alta l'attenzione dell'opinione pubblica su ciò che sta avvenendo a Gaza Da zero calcare ad Altan anche il mondo del fumetto ha voluto fare la sua parte con la mostra organizzata negli spazi del complesso monumentale di San Domenico Maggiore nel centro storico cittadino Falastin Urra mostra di fumetti per la Palestina Libera è il titolo dell'esposizione autoprodotta da alcuni operatori culturali della città e senza finanziamenti pubblici organizzata solo per denunciare lo sterminio in atto da parte dello Stato di Israele nei confronti della popolazione araba che vive nella striscia di Gaza spina dorsale della mostra il progetto Cufia matite italiane per la Palestina realizzato proprio a Napoli 35 anni fa progetto al cui centro c'erano le tavole di fumettisti del calibro di Crepax Andrea Pazienza e Milo Manara tra gli autori di rilievo nell'esposizione attuale a San Domenico Maggiore Zero Calcare e Natangelo la mostra realizzata in collaborazione con il comune di Napoli resterà aperta al pubblico nelle sale del refettorio fino alla fine del mese di gennaio auto in fiamme nella notte in pieno centro ad Avellino l'incendio ha riguardato una vettura parcheggiata in via Bellabona e si stava propagando ad altre auto in sosta il rogo è stato circoscritto e spento tempestivamente dai vigili del fuoco intervenuti sul posto si saggio guida sicuro il progetto per la sicurezza stradale giunto alla decima edizione presentata nel foyer del centro di produzione RAI di Napoli la decima edizione del progetto sulla sicurezza stradale si saggio guida sicuro promosso dalla regione Campania e attuato dal Lanci Campania in collaborazione con l'associazione Meridiani l'iniziativa si avvale della collaborazione del patrocinio del ministero dell'istruzione e del merito USR Campania dell'università Federico II delle forze dell'ordine e delle fondazioni e associazioni di categoria Roberto Fasanelli segretario della commissione scientifica di si saggio guida sicuro il progetto ha un ruolo fondamentale che è quello di adottare un modello educativo formativo che ribalta il paradigma dominante che vuole che bisogna spaventare le persone per poter ottenere da loro dei comportamenti corretti riguardo alla salute e rischi e pericoli L'idea è sempre la stessa quella di coinvolgere gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio campano e degli atenei della regione a supportare l'iniziativa la regione Campania come spiegano l'assessore regionale Mario Morcone e il consigliere Franco Picarone La regione sente questo impegno come un impegno davvero importante che qualifica anche l'azione di governo del territorio e soprattutto serve a salvare vite Abbiamo tantissime vittime della strada e la necessità di tornare al rispetto delle regole ma è all'educazione soprattutto dei giovani che sono la categoria più colpita Siamo al calcio Walter Mazzardi alla vigilia del derby con la salernità chiede un aiuto ai tifosi perché continuino a sostenere la squadra nonostante la delusione degli ultimi tempi e dopo la contestazione confischi a Torino Questo è un momento non si deve nascondere io non mi nascondo non mi sono mai nascosto un momento un po' particolare per il Napoli e io siccome so com'è la gente di Napoli chiedo un piccolo aiuto domani allo stadio che questi ragazzi non io perché io ormai ho 23 anni posso sopportare tutto e poi io non gioco non vado a un campo i ragazzi per 95 minuti com'è lo spirito dei napoletani che amano la propria squadra gli diano una mano fino al 95esimo che provino a dargli qualcosa in più che gli hanno sempre dato poi se alla fine non saranno contenti è giusto che si fischi si faccia quello che si deve fare questo mi sento di farlo e di dirlo perché penso sia la cosa giusta ma non ho dubbi che la nostra gente starà vicino a questi ragazzi che passano un momento di difficoltà questo lo posso dire tranquillamente è il motivo per il quale sono venuto qui proprio per fare questo piccolo grande appello io sono contento di aver fatto quello che abbiamo fatto in questa settimana di sicuro hanno lavorato bene siamo stati più insieme si sono fatte cose che magari con meno tempo non si potevano fare quindi l'ho accettato di buon l'ho voluto di come dire con molta felicità perché come sapete io sono un allenatore che mi piace lavorare sul campo preparare le partite facendo allenamenti e da quando sono arrivato ce n'erano pochi giorni per fare queste cose stando insieme anche in hotel magari si fa un filmato in più si fa una cosa in più si sta più qui al campo e credo ci abbia fatto bene è chiaro che la prova poi come sempre ci capita a noi allenatori è la partita vera è davvero tutto grazie per essere stati con noi un piacevole pomeriggio vi ricordo l'appuntamento con l'ente di ingrandimento il nostro programma di informazione in onda questa sera alle 19 parleremo di come rigenerare i territori tra innovazione conservarne la storia e l'identità e come produrre il lavoro in studio ci sarà Chiara Marciani assessore al lavoro del comune di Napoli il sindaco di Bacoli Giosi della Regione Gianluca Vorzillo patron dei Dell'Andia e Venicio Togni direttore artistico del circo Lidia Togni e ci sarà anche una bellissima esibizione di un bravissimo verticalista del circo Togni seguiteci dunque lente di ingrandimento alle 19 questa sera arrivederci Giosi della Regione